Sotiris Martalis della sinistra di Siriza fa parte di DEA e del Red Network, che è una componente della piattaforma di sinistra di Siriza, che proprio in questi giorni si è opposta alla decisione di Tsipras di presentare un piano all'Eurogruppo e ai creditori che in qualche modo contraddice il risultato del referendum contro l'austerità. Come giudichi il piano proposto da Tsipras? Qual è la posizione rispetto a questo della sinistra di Siriza? Le proposte del governo di Siriza e dell'independente Grecia sono troppo retrati per fare un compromesso con il governo di Siriza e il secondo punto, soprattutto la sinistra, che rappresenta una retrocessione, una ritirata eccessiva per venire incontro alle feste del mondo? Siriza è una parte che, nel suo DNA, è la struttura contro l'austerità. E questo perché? Perché nel DNA di Siriza vi è proprio questa lotta contro l'austerità. di Siriza e la pensione, i lavoratori, i pensionati, i nuori persone... hanno dato un grande ruolo all'ultimo referendum, tutto l'ultimo settembre, e avevamo una grande no, no a l'austerità, no a la privatizzazione, no a le cacce dei salari. E questo anche perché tutti i pensionati, i lavoratori e anche i giovani hanno veramente fatto sentire con forza la loro voce domenica scorsa per il referendum e hanno detto un fortissimo no, no all'Austenia e no anche all'Italia. I giovani vogliono distruggere questo governo perché vogliono mostrare all'Europa che non c'è una soluzione alternativa nella loro politica. E quindi loro vogliono fermare i movimenti come Podemos in Spagna, come Sinn Féin in Irlanda e quindi dimostrare che non esistono per i popoli europei altre possibilità che non siano l'Austenia. Quindi secondo noi il governo ha cercato di negoziare, ha cercato di arrivare a un compromesso con questi creditori però ha fatto troppo cessioni. La piattaforma di sinistra, dal principio, abbiamo fatto il proposito dentro di Siriza che dobbiamo avere una linea che nazionalizza i banci, stop austerity, give the program of Siriza that we have, with this program we win the elections. Mentre la piattaforma di sinistra, quella che era stata detta sin dall'inizio quando era stata creata la coalizione, prevedeva la nazionalizzazione delle banche, quindi lo scontro contro l'austerity, la posizione dell'austerity. Questo era stato il programma che era stato concordato ed è stato un programma in base al quale abbiamo vinto le licenze. Quindi abbiamo visto questo nel ultimo voto nel Parlamento greco del Parlamento greco del Parlamento greco del Parlamento greco. Quindi questo l'abbiamo visto anche nell'ultima votazione che si è avuta all'interno del Parlamento, sulle proposte che aveva fatto il Sipras. Infatti almeno 30 membri del Parlamento che appartenevano a Siriza hanno detto no, oppure non si sono presentati, quindi non sono venuti a votare, oppure sono venuti a votare e hanno detto sì, però poi hanno detto in dichiarazione ufficiale che erano contrarie a questa linea e che volevano assolutamente interrompere l'austerity. Ok. Grazie.